Ciao a tutti, oggi, come avrete capito dalle immagini, andremo a vedere come si realizza questo bastoncino di zucchero all'uncinetto. Io li sto realizzando per la casetta pan di zenzero, la gingerbread, che voglio realizzare appunto come decorazione natalizia. Stavo realizzando appunto il progetto della gingerbread, quando ho detto mi serviranno due bastoncini di zucchero fatti all'uncinetto, e allora ho voluto condividere anche il tutorial a sé del bastoncino di zucchero. Ho visto che nel web ce ne sono tanti, però è talmente breve come tutorial che uno in più non guasta mai, poi questo è un metodo differente per realizzarlo rispetto a quelli che ho visto nel web. Bene, a questo punto, bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa occorre e come si realizzano i nostri bastoncini di zucchero all'uncinetto. Allora, per realizzare il nostro bastoncino di zucchero ci occorre ovviamente il filato bianco e il filato rosso. Io utilizzo l'acrilico, ve lo sapete, per gli amigurumi utilizzo sempre l'acrilico. Se dovessi usare un filato differente, ve lo dico, quindi, ora mi sono ricordata di dirvelo che è acrilico, però sappiatelo è sempre acrilico quello che io utilizzo per gli amigurumi. Se cambio, per qualche motivo, ve lo dico. Quindi, bianco e rosso, però fare un bastoncino di zucchero ce ne serviranno 6 grammi per colore, ma neanche 5 grammi per colore, quindi veramente pochissimo. E l'uncinetto numero 3, perché questo qui è un filato da lavorare con l'uncinetto numero 3. Poi abbiamo bisogno dell'imbottitura. Di una matita o di un bastoncino, io utilizzo questi bastoncini da sushi, da un ristorante cinese o giapponese, che sono comodissimi. Oppure una matitina con la gommina dietro. Il filo di alluminio, questo morbido morbido, che lo trovate ormai ovunque, perché davvero ora si trova anche nei supermercati. L'ho trovato questo, l'ho trovato appunto in un supermercato. Lo trovate davvero ovunque, del colore che trovate, non è importante, un ago da lana, un paio di forpici e un rotolino di scotch di carta, o di scotch normale. Bene, vediamo subito come si realizza il nostro bastoncino di zucchero all'uncinetto. Allora, iniziamo con il bianco e andiamo a realizzare un anello magico di sei maglie basse. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie basse. Ora stringiamo l'anello, tirando il filo, e andiamo a realizzare cinque aumenti. due maglie basse nelle prossime cinque maglie di base. Uno, due, tre, quattro e cinque. L'ultima maglia la lavoriamo normale, quindi senza aumentare. Abbiamo adesso undici maglie basse nel nostro lavoro. Procediamo con inserire l'uncinetto nella maglia successiva. tiriamo sul punto e andiamo a prendere il filo rosso e andiamo ad inserirlo nella lavorazione. Quindi tiriamo sul punto con il rosso e facciamo uno, due, tre, quattro e cinque punti e sei con il primo, perché il primo non lo vediamo ma è sempre in rosso. Va bene? Noi abbiamo uno, due, tre, quattro e cinque e sei punti. Adesso inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, tiriamo sul punto con il rosso, cambiamo con il bianco, tenendo il rosso accostato alla lavorazione in modo da tirarlo dentro, cambiamo adesso il punto, quindi chiudiamo il punto con il bianco. Adesso andiamo a lavorare quindi sei punti in bianco. Uno l'abbiamo fatto, due, tre, quattro, cinque e sei punti in bianco. Entriamo nel punto successivo, tiriamo sul punto con il bianco e lo chiudiamo con il rosso, così, e invertiamo i colori, quindi sopra il rosso e sotto il bianco. Quindi entriamo, il primo l'abbiamo fatto in rosso, andiamo due, tre, quattro, cinque e sei. Vedete che io mi tiro dentro il filo di lavorazione in modo che all'interno sia sempre libero e pulito, perché sennò poi facciamo un disastro quando dobbiamo andare a imbottire questi due, questi due fili iniziali, questi poi alla fine li possiamo anche tagliare, anzi tagliamoli anche subito, facciamo un nodino così, in modo che ce li leviamo di mezzo subito, sennò che non ho noia mentre lavoriamo. Questi due possiamo, esatto, tagliarli così. Quindi adesso abbiamo fatto i nostri sei punti in rosso, entriamo nel punto successivo, tiriamo sul punto con il rosso e lo chiudiamo con il bianco. Quindi adesso teniamo il bianco sopra e il rosso sotto attaccato al lavoro, entriamo nel primo punto e facciamo due, tre, quattro, cinque e sei punti con il bianco. Entriamo nel primo punto rosso, tiriamo sul punto col bianco e lo chiudiamo con il rosso. Ora nuovamente invertiamo, quindi mettiamo il rosso sopra e il bianco sotto, sei punti con il rosso, uno l'abbiamo fatto, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora entriamo nel bianco, tiriamo su e chiudiamo col bianco. Invertiamo nuovamente, uno, partiamo sempre a contare da due, perché anche se il primo punto non lo vediamo è realizzato con il colore del cambio. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Entriamo nel punto successivo, teniamo su e chiudiamo con il rosso. Cambiamo. Praticamente dobbiamo andare avanti sempre di un punto. Vedete che pian pianino il lavoro si sposta, diventa obliquo. E procedete così per tutta la durata del vostro bastoncino. Adesso io vi dico quanto è lungo quello che faccio io, allunghiamo così, e questo qui è lungo 28 centimetri. Il mio bastoncino è lungo 28 centimetri, così. Voi lo lavorerete fino alla lunghezza della quale vorrete il vostro bastoncino di zucchero, procedendo a lavorare così come vi ho fatto vedere. Quindi ve lo faccio rivedere un'altra volta, anche se penso che sia pressoché inutile. Entro dentro il primo punto, due, perché il primo è sempre quello del cambio. Tre, quattro, cinque, sei, entro e cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque, entro e cambio. Inverto i colori. Due, tre, quattro, cinque, entro e cambio. Inverto e procedo così, come vi dicevo, fino ad arrivare alla lunghezza del mio bastoncino. Adesso prendiamo il filo di alluminio e per avvantaggiarci, per non diventare matti dopo, perché mi stavo dimenticando questa cosa che è fondamentale, siccome noi il lavoro lo stiamo facendo molto stretto, quindi non possiamo permetterci di realizzare il lavoro tutto lungo e poi andare ad imbottire e ad inserire il metallo all'interno, perché altrimenti non ci riusciamo, perlomeno ci riusciamo, ma diventa un lavoraccio. Allora lo facciamo prima, andiamo a costruire il nostro bastoncino intorno al ferretto e man mano che andiamo avanti lo imbottiamo. Quindi noi andiamo a tagliare un pezzettino di metallo, di alluminio, lungo quanto vogliamo, lungo il nostro bastoncino di zucchero. Poi prendiamo il scotch di carta e lo avvolgiamo intorno allo scotch di carta, così, in modo che, in questo modo, vedete, così come io poi ho fatto qui, in maniera anche molto grossolana, non importa, non serve che sia esageratamente perfetto, tanto va nascosto all'interno del nostro bastoncino. Dopodiché lo inseriamo all'interno del bastoncino e man mano che andiamo avanti, ogni pochino di punti, ogni pochino di giri, andiamo ad allargare, ci allutiamo magari con un bastoncino, con una matita, e andiamo ad imbottirlo un po' per volta, perché sennò arriviamo alla fine che poi ci ritroviamo a dover fare un lavoraccio, invece facendo così ne facciamo un lavoro fatto proprio bene. bene. Quindi andiamo ad imbottire man mano il nostro bastoncino, mentre lo stiamo realizzando. E continuo con la mia lavorazione. Una volta che avremo raggiunto l'altezza del nostro bastoncino di zucchero, nell'ultimo round, nell'ultimo giro, andremo a realizzarlo, l'ultimo giro andremo a realizzarlo tutto con il bianco, quindi lasciamo perdere il rosso e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Però non andiamo a chiudere diminuendo, andiamo a fare 11 maglie basse, quindi tutto il giro lo facciamo con il bianco. Una volta che saremo arrivati dall'altra parte, facciamo l'ultima maglia, facciamo una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo, a questo punto tagliamo anche il filo rosso, così, e fermiamo quello bianco, quello rosso lo accorciamo, lo inseriamo all'interno e terminiamo di imbottire il nostro bastoncino. Ora una volta che abbiamo finito di imbottire, prendiamo l'ago da lana, inseriamo il filo nell'ago e andiamo a ripercorrere a ritroso, così, in tutti i punti, quindi entriamo in tutti i punti, in questo modo, così, tiriamo, stringiamo, vedete, entriamo nel punto e poi tiriamo verso il centro, entriamo in uno o due punti, io vi faccio vedere uno per volta, ma voi potete farlo anche due tre per volta, e tirate, vedete, in questo modo, una volta che avrete chiuso tutto il buchino centrale, fate un punto asola, e poi fate sparire il filo di lavorazione all'interno del vostro bastoncino, così, e tagliateli, dopodiché andate a modellare e sistemare il vostro bastoncino come più vi piace, così, e i due bastoncini per fare la nostra casetta pan di zenzero sono pronti, e questa è una decorazione che potete realizzare per attaccare all'albero, per da mettere in giro, ne fate un pochino, fate un mazzettino, ne mettete, potete metterli nel centro tavola della cena, o del pranzo di Natale, insomma, di modi di utilizzo ce ne sono veramente tanti, a questo punto, come avrete capito, il brevissimo tutorial è terminato, vi ripeto, ce ne sono tanti di questi nel web, ne ho visto tanti, però uno in più non fa male, nel senso, avete un metodo differente per realizzare il vostro bastoncino di zucchero, bene, a questo punto, come vi dicevo, il tutorial è terminato, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial, ciao!